Musica Amici di Tecno Android, siamo qui oggi, sabato 4 maggio All'inaugurazione dello Xiaomi Mi Store a Porta di Roma Ancora c'è un po' di gente, c'è tanta fila Ma sicuramente a breve le porte verranno aperte E quindi inizierà l'ospettaggio Musica Xiaomi per la domotica Quindi lampade, RGB Abbiamo lampadine, E27, E14, Smart, insomma Un sacco di roba E io vorrei comprare tutto Una bellissima iniziativa, quella di Xiaomi, per questa inaugurazione qui a Porta di Roma E niente, speriamo di tornare presto Per questo androide è tutto Dario Ciao Io madre E Raffaella dietro Ciao Ciao A tutti Ciao 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 Ciao